Quando ti succede una roba come quella con Marquez, tu comunque ti fermi con la moto, cosa c'hai dentro di tutto? Ti devi sfogare, si fa fatica lì Ma guarda, intanto con Marquez è stato totalmente diverso, perché lì non è stata più una rivalità sportiva in pista Ma lui a un certo punto, dopo che c'è stata la rivalità in pista, eccetera, eccetera Lui a un certo punto ha deciso di farmi perdere il mondiale a me, facendo vincere un altro, che però non era neanche il suo compagno di squadra Anzi era il mio compagno di squadra Inventando delle scuse, dicendo che io gli avevo fatto qualcosa, ma semplicemente perché comunque io per lui ero quello da distruggere Il mito da distruggere per diventare lui al posto mio, capito? Però è una cosa che non si è vista mai, che un pilota, soprattutto un campione, corre per far vincere un altro Cioè nello sport professionistico non si è mai visto Neanche tra compagni di squadra Cioè è una cosa assurda E quello è stato brutto, è stato un momento bruttissimo Perché non mi ha dato la possibilità di giocarmi la sfida con Lorenzo In un anno stellare, è un anno che sarei potuto diventare dieci volte campione del mondo Quindi come un po' mettere la ciliegina sulla torta, no? No, vabbè Però non aver avuto la possibilità di giocarmela e magari perderlo Sarei stato molto arrabbiato, ma in un altro modo Ma così proprio è stata una grandissima ingiustizia, una macchia che non mi andrà mai via Anche perché se io penso a quelle ultime tre gare del 2015 adesso Ho esattamente la stessa sensazione di quando ho tagliato il traguardo nel 2015 Quindi sono passati otto anni Cioè è proprio una roba che non si spegne Non si spegne quella roba lì Una ferita veramente molto profonda E che ci penso anche troppo Dopo fortunatamente ho fatto tantissime altre cose che mi rendono felice della mia carriera Ma quella...